Salve, buonasera, sono Raffaele Di Lullo, venditore della Subitino Auto e Autocash, sito via Paganini 948. Mi provo con questa autovettura adatto al pubblico femminile, con cambio automatico, è un lapop, è del 2009, una macchina molto 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 ben tenuta, ripeto adatto al pubblico femminile perché è molto, a parte di moda, poi si può guidare con molta dimestichezza, e ha bassi consumi, macchina eccezionale, io cosa vi posso dire, vi aspetto con un buon servizio e spero di accontentarvi tutti con serietà e che andate via con serietà. Arrivederci, vi aspetto. Grazie.